Questo video non sa da fare, perché l'avevo già iniziato, l'avevo anche già quasi terminato a momenti, però è saltato tutto e quindi dobbiamo ricominciare. Quindi buon lunedì e forza Juventus, a maggior ragione in questa situazione molto complicata. Oggi, ragazzi, non ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, non per cose legate a valutazioni, momenti, campo, esonere e robe del genere, semplicemente perché la Juventus ha giocato contro la Lazio l'ultima partita, che domani giocherà contro la Lazio un'altra partita, anche se di Coppa Italia. Le date erano molto ravvicinate, oggi è un giorno di festa e bene o male si sarebbero dette le stesse cose. Quindi si è dato una sorta di respiro agli addetti ai lavori che invece domani dovranno raccontare, scendere in campo, gestire tutta quella che sarà la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. Allora, parto da un presupposto, cioè che non credo alla teoria del... è un'altra competizione e quindi senti meno la testa e la pressione perché la Coppa Italia hanno la Serie A al momento differente. Perché l'anno scorso la Juventus, durante tutto quello che è stato il caos extracampo, aveva la possibilità con la stessa Coppa Italia, anche se con di fronte l'Inter, oppure in maniera ancora più semplice con l'Europa League, di conquistare un titolo che avrebbe comunque dato una gestione diversa del momento nervoso, psicologico, di rabbia per quello che stava accadendo fuori dal campo. Oppure la Juve non è cambiata a seconda delle competizioni, è rimasta bene o male la stessa squadra. Poi, qui potrebbe trovare qualche motivazione in più? Boh, probabilmente sì, però credo che ad oggi i provenienti della Juventus siano giganti e la Juventus stia giocando delle gare contro se stessa, oggi si può dire che la Juventus non ha nessun tipo di partita scontata, mi viene a pensare anche alla partita contro la Salernitana, non è scontata nemmeno quella, perché oggi la Juventus è una squadra che può perdere contro tutti e vincere contro nessuno. Questo è oggi la Juventus e ce lo dice il filotto delle ultime nove partite giocate, disputate dai bianconeri. Però bisogna giocarla, bisogna giocarla e bisogna cercare di arrivare in finale di Coppa Italia. Perché? Perché ti dà la possibilità di accedere anche alla Supercoppa. E sono comunque soldi in più, competizioni in più, e l'anno prossimo la Juventus deve fare una stagione fatta bene. Stagioni, non deve più fare le stagioni come le ultime quattro, le ultime quattro stagioni sono state qualcosa di francamente inaccettabile per la Juve, che va bene, non si può vincere sempre, ma nemmeno essere così tanto mediocri, sempre. Perché una volta può succedere, può accadere, però bisogna lavorare per uscirne. Quando quattro stagioni sono fatte con lo stampino c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. E allora cerchiamo di fare un punto della situazione, perché ieri qualcuno mi ha detto, Luca ma quello che stai dicendo non ha senso. E io concordo che non abbia senso. Cerchiamo di fare il punto, torniamo indietro di qualche capitolo. Quando prima di Juventus Genoa, nella settimana che ci accompagna Juventus Genoa, qualcuno mi diceva, ma siamo sicuri che se Allegri non dovesse riuscire a fare i tre punti col Genoa, rimarrà poi al 100% sulla panchina della Juventus? E io vi dicevo, ragazzi, non è un discorso legato ai risultati. Che Allegri batta al Genoa o che Allegri non batta al Genoa, è impossibile che la Juventus vada a fare una riflessione su quella roba lì. Cioè, se lo vuoi cambiare, lo vuoi cambiare a prescindere da quello che è il risultato finale di Juventus Genoa. Eppure, eppure, questa mia lettura a quanto pare è stata smentita. Perché? Perché poi la Juventus fa 0-0 col Genoa. C'è tutto quel caos dalla partita fatta male alle dichiarazioni ai microfoni, eccetera, eccetera, eccetera. E mentre io torno da Torino insieme alla maschera, faccio un video in cui vi dico, ragazzi, per me non succederà, per me non lo cambieranno, per me non andranno a prendere in considerazione l'esonero di Allegri, non esoneranno Allegri, però sarebbe da fare. Perché siamo nella stessa situazione dell'anno scorso del Monza. C'è la pausa nazionale di fronte, la Juventus è morta, sportivamente parlando, lo spogliatoio è morto, non segue più l'allenatore, andrebbe cambiato per andare a responsabilizzare i calciatori. La Juventus, invece, l'esonero di Allegri, contro ogni pronostico, l'ha preso in considerazione già a partire da Juventus Genoa 0-0. Quindi quel discorso di non è la partita, non è il risultato singolo che è stato smentito. Perché poi quella partita ha aperto una discussione interna alla dirigenza. Dove Calvo, Giuntoli e Scanavino si sono trovati a dare una valutazione su quello che poteva essere il momento Juve. E bene o male si sono trovati d'accordo sulla necessità di un cambio al termine della stagione della guida tecnica, ma non erano d'accordo, orientati su quello che sarebbe accaduto in quell'istante lì. Perché alcuni, quindi Calvo e Giuntoli, avrebbero anche fatto banalmente un comunicato per annunciare che Allegri l'anno prossimo non sarebbe stato l'allenatore della Juventus per cercare di responsabilizzare la squadra. Come a dire, ragazzi, guardateci voi come volete finire quest'anno con Allegri. Perché tanto l'anno prossimo non c'è e giocare la Champions oppure no dipende da voi. Questa è stata un po' la volontà che avevano in testa. Ma Scarabino non ha ritenuto fondamentale in quel momento lì andare a fare una sorta di comunicato del genere e quindi alla fine si sono venuti incontro e si sono detti sapete cosa facciamo? Guardiamo un po' quello che accade nelle prossime due partite con la Lazio. Quindi Serie A e Coppa Italia. Io vi dico la verità. Sono dell'idea che quando cambi allenatore lo devi fare nel momento in cui c'è anche la finestra adeguata per farlo. L'anno scorso col Monza c'era, c'era la pausa nazionali. Quest'anno con il Genoa c'era, c'era la pausa nazionali. Far passare la pausa nazionali. Far ricominciare Allegri. Farlo andare a Roma. Con la Lazio perdi a Roma all'ultimo secondo. Poi c'hai una partita di Coppa Italia che quindi è slegata dalla Champions. Cioè, a me questi ragionamenti qua mi fanno anche un pochino arrabbiare. Perché poi chi dice, oh Luca questa roba non ha senso, c'ha ragione. E vi dico perché c'ha ragione. Perché qui non si tratta di una testa, un'entità. Io sono responsabile dell'area sportiva della Juventus e quindi le decisioni legate all'area sportiva della Juventus le prendo io. Qui bisogna mettere d'accordo un po' tutti. Poi, magari è così anche nelle altre società. Magari è sempre stato così anche in precedenza la Juventus. Però, questa cosa un po' mi preoccupa. Perché la Juventus in questo momento ha un problema grosso che è il campo. Oltre a tanti altri problemi legati alla comunicazione, tutto quello che arbitra intorno alla Juve, che per me sono giganti, quelli lì. Però c'è il campo che diventa un problema. Perché poi, oggi gioca la Roma e il Bologna. E noi dobbiamo stare lì a vedere e dire, cavolo, speriamo che non vinca la Roma e il Bologna. Mica speriamo che rallenti l'Inter così se per caso è facciamo un sorpasso. No, dobbiamo sperare che quelle dietro non vincano per non avvicinarsi ancora di più e privarci anche di quello che è l'obiettivo minimo. Cioè la Champions League. Ragazzi, sta roba è francamente troppo. Quindi a me preoccupa, sinceramente, sono d'accordo con chi mi dice che non ha senso. Preoccupa che si devano mettere d'accordo due, tre teste e poi magari dopo che sono d'accordo andare più in alto la proprietà. Elkan, sai cosa facciamo? A livello economico possiamo permetterci? Cioè, se oggi c'è la necessità di cambiare allenatore, che non è nemmeno oggi, era già ieri, perché ieri c'era la pausa nazionale, la Juventus era in crisi nera, eccetera, eccetera. Non perdere tempo. Non perdere tempo. Perché il tempo è fondamentale, perlomeno per dare quel minimo di organizzazione per arrivare a scendere in campo con un po' di lucidità. Perché, vi faccio un'ipotesi, domani la Juventus pareggia con Alassio, esonerano Allegri, domenica si gioca con la Fiorentina, cioè, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, quattro giorni di cui forse, boh, quattro, cinque allenamenti, non lo so. No, poi chi ci mette? Il Montero di turno. Perché oggi ci metti il Montero di turno, perché chi viene per 45-50 giorni ad allenare la Juve, a meno che tu non gli vada a promettere l'anno prossimo come ha fatto l'Alassio con Tudor? Gli prendono un tagliettatore, perché magari c'è in testa di arrivare a allenatore X che in questo momento allena, può essere Tiago Motta o chi volete voi, a meno che tu non voglia prendere Conte, ma Conte arriva a 40 giorni dal termine. Conte bisogna fare la preparazione, costruire la squadra, a me non gli conviene nemmeno, dal proprio punto di vista logico, a Conte andare in corsa gli ultimi due mesi che se poi non arriva in Champions è anche fregato e magari si guarderebbe più volentieri intorno, quindi per forza di cosa è un traghettatore. Però purtroppo oggi siamo nella situazione, signori, in cui Allegri andrebbe esonerato in corsa, punto, stop, questa è la cosa che dobbiamo mettere lì in alto, quella non ce la toglie nessuno. Però provate a immaginare, io sono un dirigente della Juve, so che Allegri lo esonererò tra due mesi, so che Allegri tra due mesi verrà esonerato, non sarà l'allenatore della Juve l'anno prossimo. Che cosa faccio adesso? Adesso, intendo adesso dopo la pausa nazionale, perché adesso c'è stata l'Alastro, l'hai già persa, domani giochi l'Alastro che è la Coppa Italia, poi c'è subito dopo la Fiorentina, lo cambio lì? Lì, lì non è logico, non è logico, anche perché la sconfitta con l'Alastro, anche se è soltanto una partita di Serie A, ma una sulle nove a disposizione, ora sono otto, e l'hai già persa, e le altre ti possono allungare, accanzi, accorciare. Ma sposta, sposta alla grandissima, sposta tantissimo, e magari con un po' di organizzazioni questa pausa nazionale non sarebbe andata a finire proprio così. Quindi anche prendere uno e buttarlo adesso nella Fossa dei Leoni, ma facciamo il caso, la Juventus esonera Allegri, perché Allegri si merita l'esonero e anche a stagioni in corso, e anche a stagioni in corso, se lo merita. Però io qui non voglio ragionare su Allegri, su Massimiliano Allegri, voglio ragionare sulla Juventus, perché qui c'è un problema. La Juventus rischia di non arrivare in Champions, e allora esonero Allegri, dopo la partita con l'Alastro, mercoledì mattina lo esonero, e mercoledì pomeriggio il primo allenamento lo fa Montero, cioè ragioniamo per ipotesi, no? Chi mi assicura che Montero riuscirà ad arrivare in Champions? Poi, partiamo da un presupposto, oggi alla Juventus serve fare dei punti punto, quindi anche solo l'entusiasmo ritrovato, la scossa, l'energia, la responsabilizzazione dei giocatori, questo potrebbe benissimo essere sufficiente. Non dico di no, dico di sì, anzi grande sì, però io mi metto anche nei panni di un dirigente della Juventus e dice, oggi esonero Allegri, d'accordo, perché se lo merita? Ma ne metto un altro? Ma a me non è che faccio i ragionamenti in funzione del futuro di Allegri che allena sì la Juve, allena no la Juve, chi se ne frega. Io devo fare sulla mia pelle, sulla Juve, sui soldi, sulla qualificazione, sulla Champions, sulla programmazione, sul prossimo allenatore, cioè su questa roba qui, eh. E poi, dall'altra parte, voi giustamente mi dite, sì ma anche con Allegri non ci arrivi, certo, 100%, 100%, e Allegri infatti, come dicevo prima, esonerare la stagione in corso se lo merita, sì. Però qui il discorso è più ampio, più complicato di Allegri faccio finire l'anno, non faccio finire l'anno. Per me andrebbe esonerato, cioè non è che se mercoledì lo esonerano sono triste, è questo che vi sto dicendo. Semplicemente vi dico, dieci giorni fa, dove non si giocava alle partite, si è scelto di andare avanti, per poi cambiarlo dopo due partite di cui una compianata e una Coppa Italia? Cioè, capite qual è il punto, capite dove voglio arrivare, cioè, che fiducia posso avere dopo in una società che, se dal punto di vista dirigenziale, sportivo, si vuole prendere una decisione, anche se chi davvero, dal punto di vista sportivo, deve prendere decisioni, l'ha deciso, però gli mettono un palo. Cioè, questo è solo uno, ma banalmente, compriamo Cobainers, giunto gli dice, guarda, per me Cobainers è il giocatore da comprare a tutti i costi, cedendo Sule, quindi finanziando Cobainers con Sule, faccio un esempio, lo facciamo perché per me è assolutamente la cosa migliore dal punto di vista sportivo, e arriva uno là e gli dice, no, per me non lo è, però, diavolo, giunto lì dal punto di vista sportivo, è lì per prendere decisioni dal punto di vista sportivo. E se giunto dal punto di vista sportivo ritiene quella la cosa giusta da fare, la scelta giusta da fare, è fatagliela fare. Adesso, sto estremizzando, ovviamente, sto andando oltre, però è per farvi capire, perché poi giustamente uno dice, quello che mi stai dicendo non ha senso, no, non ce l'ha, e sono il primo a dirvelo, e infatti questa cosa un po' mi preoccupa, perché io vorrei delle gerarchie chiare, a maggior ragione dentro una Juventus che, dalla parte sportiva, è nata l'anno scorso, e con un direttore sportivo che arriva, si trova l'allenatore confermato, mercato non se ne va, perché soldi non ce ne sono, arriva a stagione in corso, che è la stagione, sta prendendo una brutta piega dal punto di vista sportivo, e quindi si traduce nella brutta piega dal punto di vista economico, vuole cambiare l'allenatore, gli candidò. Però gli dicono, però, se anche le prossime due le sbaglia, sì, cioè, a me piacerebbe anche un po' più di logica, un pelo più di logica, anche perché vi dico, per me sarebbe anche assurdo esonerare l'Igri mercoledì, cioè, se davvero hanno deciso le prossime due partite, Lazio-Lazio, Serie A Coppa Italia, e se non ne vince nessuna lo esonero, allora vi dico, fatelo andare in panchina anche con la Fiorentina, piuttosto che buttare uno, poveraccio, senza il tempo per lavorare, fate andare allegri in panchina anche con la Fiorentina, vince 5-0, uno e dillo esoneri. Cioè, perché è talmente tanto ristretto qui il tempo, che poi io devo per forza di cose metterci anche la logica, ma soprattutto il benessere della Juventus, di chi dovrà preparare la partita della Juventus, di chi dovrà mettersi lì a scavare tra le macerie della Juventus, che qui, ok, allegri, però, signori, a me sembra chiaro e dividente che Allegri tra due mesi con la Juventus non avrà niente più a che spartire, se non magari un anno di contratto in cui verrà pagato per rimanere a casa. Cioè, è questo il punto, è questo il discorso. Quindi mi piacerebbe guardare un po' oltre Allegri e guardare la classifica della Juve, i bisogni della Juve, la necessità della Juve, la qualifica Champions della Juve, la Coppa Italia della Juve, questa roba è qui. Non perché Allegri non va desonerato, Allegri è andato desonerato prima, non adesso, addirittura prima, quando c'era il tempo per prepararlo. Darsi due partite di bonus per guardare, per decidere, per pensare, boh, a me questo fa anche un po' arrabbiare, perché va a evidenziare un certo stato di confusione internamente alla Juventus, dove bisogna essere tutti d'accordo, tutti. Allora, questa roba qui un po' non mi piace, devo dirvi la verità. Ma voglio sapere la vostra, qui sotto, nei commenti. Forza Juventus!